Ciao a tutti ragazzi, sono sempre Paolo Spos dello Sette, video sorpresa, questa sera sarò Paolo Masta per la presentazione di Marco Borriello allo stadio. Ed ora il saluto di Marco Borriello ai tifosi della SBA, i tifosi che sono in Curva Ovest. Marco Borriello! Buonasera a tutti ragazzi, i giacchi ne abbiamo già fatte tante, no? Quindi non vedo l'ora domenica di essere sul campo per farvi esultare. Grazie a tutti per l'accoglienza, grazie. Grazie. Forza fa! 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 Forza! Forza fa! Forza fa! Vieni su! Sgridalo! Sgridalo! Ehi Marco, grande! Marco! Ciao Marco, ciao Marco, grande! Marco, un giro! Forza fa! Forza fa! Forza fa! Marko